buongiorno amici eccoci a un altro appuntamento di ti racconto il libro oggi è la volta di pensione eva di andrea camilleri andrea camilleri lo conosciamo tutti per le vicende legate per le storie che lui scrive per il commissario montalbano e pensione eva è ambientata navigata ma il protagonista è un ragazzo nenè che un giorno si ritrova davanti un palazzo entra incuriosito e si ritrova all'interno delle ragazze molto belle con le quali fa amicizia poi tornerà nuovamente e si accorgerà che queste ragazze erano cambiate erano diverse nel senso che ce n'erano altre questo perché perché pensione eva era un una casa di tolleranza e le ragazze avevano questa circolarità non potevano rimanere lì dentro più di 15 giorni andrea camilleri in questo romanzo che va da prima a durante la guerra la seconda guerra mondiale riesce a darci un'immagine abbastanza chiara del periodo storico in cui è ambientata e vi leggo un brano che parla di quanto fosse difficile trovare da mangiare in quel periodo ha divinto difficili trovare la roba di mangiare i peschierecci e rizi miliari non mi scivano tanto spesso per andare a pescare c'era apricolo o di essere mitragliati o di sbattere su per qualche mina il pane che davano con la tessera era verdastro muffoso e se lo spezzavi pigliavi la mollica la pallottolavi e la tiravi sopra un muro ci ristava impiccicato come usera colla oghiu non se ne trovava più carne manco a pallareni la manciata alla pensione eva qualche volta si fece con olive sarde salate e cacio tumazzo per accompagnare le due grosse scanate di pane buono che Iacolino misteriosamente riusciva a procurarsi quello che non mancava mai era il vino ecco a parte sì sì ci sono due bei due belle cose da evidenziare in questo breve brano che ho letto intanto il fatto che le ragazze poi entrano in confidenza con questi con questo con nene e con gli amici di nene e tanto da fare queste tavolate di mangiare è quanto fosse veramente difficile trovare del mangiare buono dice lui che Iacolino misteriosamente trova il pane buono che invece era quello che davano era muffito muffoso dice lui è proprio brutto da mangiare camilleri verrà sempre ricordato per questa sua scrittura frizzante vera verace ecco molto apprezzato da tutti ho voluto oggi fargli questo omaggio e quindi io vi ringrazio grazie da me Giovanna Fileccia e alla prossima